Allora, adesso torniamo a parlare della cosa di cui tutti parlano, cioè la Superlega, questi 12 grandi club che si sono messi insieme e hanno creato una nuova competizione. Grande scandalo, si muovono i vertici istituzionali, i governi, l'Europa e tutti quanti. Ne parliamo con un super esperto, con Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, il quale, tanto per capirci, ha scritto, è scoppiata la tempesta perfetta che rischia di polverizzare il calcio. Quindi mi pare chiaro come la pensi. Sì, mi pare abbastanza chiaro. Buongiorno prima di tutto, a voi dei spettatori. Allora, senza ipocrisia, questo è, secondo me, un discorso molto legato agli affari, discorso di soldi. Non bisogna essere ipocriti nel pensare che nel calcio i soldi non girino, che UEFA e FIFA siano dei benefattori o degli enti di beneficenza. Però, qui c'è una cosa che oggettivamente stride, e mi pare che il no sia unanime, non sono stato io solo a dire, insomma, qualche cosa di non positivo nei confronti di questa Superlega. Viene sostanzialmente vanificato il merito sportivo. Cioè, quando si comincia a giocare da ragazzini, uno ha un sogno, arrivare in nazionale oppure arrivare a giocare la Champions League, una volta si chiamava Coppa dei Campioni. Qui 12 club, che sono i più ricchi, ma sono anche in questo momento i più in difficoltà economiche, perché la pandemia ha acuito una serie di situazioni di bilancio estremamente pesanti, nate da gestioni francamente un pochino discutibili. Faccio un esempio per tutti. Il Tottenham a Mieri ha esonerato Murigno, un allenatore che in Italia conosciamo bene, e per questo esonero dovrà pagare a Murigno una penale, si dice, di 40 milioni di euro. E se si firmano questi contratti, poi dopo è chiaro che si corrono dei rischi. Di fronte a questo tipo di situazione economica compromessa, che cosa hanno pensato questi signori? di fare praticamente un loro club. Dicono, noi giochiamo tra noi, e però arriva da noi tutto sommato solamente chi noi stabiliamo che debba venire a giocare. Questo oggettivamente è contro le regole dello sport, del calcio in generale, e dei sogni anche di tutti quelli che quando cominciano a giocare al calcio, i bambini e poi anche i tifosi, aspirano comunque a vedere come è risultato per la loro squadra. Però, direttore, non era pur legittimo provare a trovare una soluzione, all'impasto di cui pure tu parli, no? Le difficoltà legate alla pandemia, sono svuotati gli stadi, anche il marketing evidentemente ha avuto le sue difficoltà. Assolutamente sì, il Covid ha colpito tutti, ha colpito anche il calcio. Però, vedi Monica, ieri l'UEFA ha varato una riforma della Champions League, che amplia il numero delle partite e il numero delle squadre. Si passa da 32 a 36 squadre e si dà comunque, da questo punto di vista, un'ulteriore possibilità di nuovi introiti economici. Io credo che, insomma, il gigantismo, trasformare in maniera solamente economica lo sport non sia un dato positivo. Non bisogna né essere passatisti, né correre il rischio di essere nostalgici e con la testa rivolta all'indietro. Però io credo che poi lo sport è diverso rispetto ad altri settori della società, perché poi non sempre vince quello che ha più forza economica. Qualche volta capita, l'abbiamo visto con l'Eister, l'abbiamo visto col Verona ai tempi, l'abbiamo visto quest'anno, per esempio, il Benevento che è andato a vincere a Torino contro la Juventus. Queste cose, se si fanno saltare perché si stabilisce, a prescindere che si fa un club dove giocano solo queste squadre, non mi pare che sia la cosa migliore per far crescere, anche per venire incontro alle esigenze economiche che sono legittime e anche ai problemi che il Covid ha acuito. A me mi sembra la ricetta sbagliata, sinceramente. Allora, dicevamo prima che la questione della Superlega è diventata una questione istituzionale. Sono intervenuti tutti i capi di governo, anche il Presidente del Consiglio nostro, Draghi, e è una questione che riguarda l'Europa. E allora, ce lo facciamo raccontare, che cosa succede in Europa, da Gavino Moretti, corrispondente RAI da Bruxelles. Gavino, allora... Diciamo che subito le istituzioni europee si sono schierate contro questo progetto, anche perché facciamo notare che in queste ore si sta realizzando una divisione, se si può dire geopolitica, anche sul piano sportivo, perché le società al momento sono di soli tre paesi, Gran Bretagna, peraltro fuori dall'Unione, la Spagna e l'Italia. Mentre c'è una forte contrarietà da Francia e Spagna, noi sappiamo che l'Europa spesso parte da un asse franco-tedesco. Ebbene, ieri c'è stato subito il no del Presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, ha detto siamo contro un'unità di sport che va per i soli ricchi, mentre lo sport deve coinvolgere tutti. La linea della Commissione europea, pochi minuti dopo l'annuncio della creazione della Superlega, è stata espressa dal Vice Presidente Margaritis Schinas, che ha detto noi puntiamo su un calcio che deve essere inclusivo come valore, senza lasciare fuori nessuno. E il più agguerrito tra i leader, per parlare appunto di geopolitica, tra i leader europei è Macron, che ha proposto una direttiva europea per contrastare questa proposta. Facciamo notare anche che per una volta ci si riunisce con la linea politica di Londra, perché anche Boris Johnson ha detto alla fine a danneggiare questa proposta sarà tutto il mondo del calcio e anche Johnson ha detto col mio governo cercherò di contrastare insieme alle autorità sportive questa idea. Infine, sembra più dialogante il governo spagnolo, perché la Spagna ha detto che è stato un metodo sbagliato, ha detto il Ministro dello Sport di Madrid, però dovremmo risederci tutti intorno a un tavolo. Ecco, è il governo che più apre a ricomporre la frattura. Grazie, grazie Camino Moretti. Tra l'altro, giusto per dire, si rischiano delle sanzioni? No, adesso si rischiano delle sanzioni e si rischia, secondo me, un periodo di calcio in tribunale, perché già ieri l'UEFA ha detto che vuole escludere tutte, l'UEFA, ma l'ha detto anche la Federcalcio Italiano, tutte le federazioni, tutte le leghe più importanti, hanno detto che chi si è posto, chi si porrà all'interno della Superteca verrà escluso da quelle che sono le competizioni organizzate dagli organismi istituzionali del calcio. Quindi, cause contro cause, la tempesta perfetta. La tempesta perfetta come hai scritto tu. Senti, ultima domanda. La RAI si è assicurata ai diritti dei mondiali 2022 in Qatar. Quindi, agli italiani, il calcio, diciamo, nel servizio pubblico. È una bella notizia per noi, nel servizio pubblico. Non a caro prezzo. Ricordiamo che prima ancora dei mondiali del 2022 saranno una grande esclusiva della RAI, primo mondiale che si giocherà in autunno, quindi particolarmente interessante anche dal punto di vista televisivo. Ci saranno gli europei. Oggi comincia il tour a Roma del trofeo che sarà messo in pario dall'11 di giugno e le partite della nazionale e le partite principali dell'europeo saranno visibili sulla RAI, in chiaro e per tutti. Quindi, c'è anche il calcio giocato, per fortuna quello che piace a tutti di vedere e di commentare. E ai tifosi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a D'Angelo, grazie.